Non c'è nessuna ispezione prevista dall'assessorato enti locali e ormai si dice fake news che è stata probabilmente riportata da parte delle testate giornalistiche per una indicazione errata. Infatti io invito tutti i giornalisti prima di scrivere qualcosa sarebbe opportuno anche che si facciano le dovute verifiche. Il mio numero di telefono lo conoscono tutti quindi non sarebbe male perché facendo così non si fa altro che continuare a denigrare un paese come Capodorlando che invece viene amato, apprezzato da tarte di tutti e quindi nessuna ispezione. Un mese fa è stata inviata una lettera che ci chiedeva quali erano le condizioni e la ragione per cui noi non avevamo pagato i contributi e io ho risposto con molta correttezza dicendo visto che per ora non abbiamo la possibilità di mandare le richieste dei tributi ai nostri cittadini come è giusto che sia, ovviamente abbiamo difficoltà di incassi. Quindi appena voi assessorati, voi governo, manderete delle somme, quelle somme che sono state previste e che sono arrivate dalla regione ma che ancora non sono arrivate dal governo perché dobbiamo anche dirlo che quegli impegni che sono stati presi, i famosi 4 miliardi che il governo nazionale ha messo a disposizione per supportare i comuni ancora non sono arrivati e ho detto quando arriveranno procederemo a fare i pagamenti. Quindi non c'è assolutamente nessuna ispezione da parte degli enti locali e anche se teoricamente dovessero venire non vedo cosa dovrebbero ispezionare se non le casse dei comuni, di tutti i comuni che sono in enorme difficoltà in questo momento.